un giro d'italia che approda anche a castiglione della pescaria che toccherà molti luoghi della toscana quali sono le finalità e quali sono le persone impegnate in questi tanti chilometri circa 2000 da trapani a trieste sono persone che varie sono persone normalissime che mettono la loro esperienza al servizio di tutti c'è chi ha storie di sport e chi non ne ha per niente chi ha delle professionalità di medico compie la sua funzione sui pedali in ambiente e chi ha altre capacità ma tutti tutti le loro capacità le mettono al servizio delle fragilità che sono presenti in vario modo all'interno del gruppo in tandem per la legalità e il titolo del dell'evento siete arrivati in toscana rivedete a trieste lei parlando alle persone presenti oggi ha rimarcato la tenata di questo gruppo nel voler arrivare come dire raggiungere un obiettivo che a volte noi pensiamo del professionisti in realtà mi pare che voi state riuscendo bene in questa molto bene molto bene e sta vincendo la coralità del gruppo al di là delle fragilità perché mettiamo in campo tutte le nostre parti sane che sono complementari e questo viene amplificato dall'effetto del tandem dello stare assieme della fiducia del della sincronia della sintonia che bisogna avere ogni pedalata oggi ospitate insieme ad unicop tirreno questo giro d'italia un po insolito rispetto a quelli che conosciamo ma non meno ricco di emozioni probabilmente certo si intanto il fatto già la scelta di castiglione della pescaia no perché loro comunque sono partiti da un profondo sud quindi da taranto mi sembra quindi il fatto che abbiano scelto come tappa sia pescaia ne dice ne dice molto no intanto è il territorio bellissimo ma anche sensibile come territorio sensibile ma anche l'unico op tirreno che ha dato questa questa modalità di fare tappa qui da noi quali sono gli obiettivi terapeutici di questa iniziativa dottoressa si ha fatto bene a precisare che l'aspetto terapeutico e mi permetto di aggiungere riabilitativo terapia senza riabilitazione nel campo delle fragilità risulta praticamente inutile l'obiettivo è quello di poter fissare un punto di arrivo che è lontano nel tempo e per permettere alle persone che partecipano a questo gruppo piano piano di prepararsi di allenarsi per poterlo raggiungere ed è una delle cose più difficili per chi ha avuto una fragilità perché il qui e ora appartiene al momento ma il punto lontano non è mai stato preso in considerazione questo è un gruppo terapeutico in cammino e la grande valenza è quella che siamo usciti dalle quattro mura di un ospedale per promuovere la salute di queste persone non la guarigione o la cura che spesso non ci appartiene uno dei nostri è senza una gamba guarigione vorrebbe dire fargliela ricrescere cosa praticamente impossibile bene allora noi siamo dell'idea che è inutile continuare a focalizzarci sulle parti mancanti o malate e invece abbiamo scelto di focalizzarci sulle parti sane potenziandole il più possibile per rendere possibile il miglior funzionamento per ciascuno delle persone di questo gruppo grazie a tutti grazie a tutti